il foglio interno della cosa Sì, è meglio di 5 rocks. ma se non c'è una cosa che si fa lanciando, si doveva vedere, ha iniziato le cose di tutto il piano del passore, no, ma se non c'è iniziato, delle canzoni poi è quello perchè Giulia ci ha detto ah ma guarda lo stampiamo sul foglio dove va il disco poi c'erano i testi delle storie con delle cose ci abbiamo messo tipo ringraziamenti con delle terelle in basso